A campagna la DIA di Salerno ha eseguito una misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di un locale imprenditore con precedenti perreati di usura e afferenti al traffico di sostanze stupefacenti. Titolare di una rivendita di automobili in contatto sia con membri del clan camorristico Serino, guidato da Liberato Marcantuono insieme a Daniello Serino, sia dello storico clan camorristico Maiale. I due sodalizi erano operativi a campagna, a Eboli e in diverse località della Piana del Sele. Il Tribunale di Salerno ha applicato l'ASPO e la confisca a previo sequestro di beni immobili e immobili, terreni, società e depositi di credito riconoscibili sia al proposto sia al coniuge per un valore di circa 2 milioni di euro. Sono finiti sotto sequestro una ditta individuale con sede legale a campagna, 48 autovetture integranti al patrimonio sociale, la sede di un centro estetico, 4 unità immobiliari adibite a civile abitazione, un locale commerciale, un terreno adibito ad aggrumeto, un rapporto bancario riconoscibile al proposto e alla società individuale di vendita di autovetture. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS